Non ha mai amato il Quirinale Silvio Berlusconi, ha sempre voluto una repubblica presidenziale e il presidente è chiaro doveva essere lui. L'ex premier ha detestato Scalfaro, ha sopportato Ciampi, si barcamena fra alti e bassi con Napolitano. La telefonata di Piazza Pulita con le accuse di una pressione sulla sentenza sull'Odo Mondadori in Cassazione è il punto più basso, ma un anno fa in un'intervista a Giuliano Ferrara Berlusconi aveva riconosciuto che Napolitano è stato un impeccabile servitore della Repubblica e aveva ricordato il fair play del suo primo discorso da premier a Montecitorio nel 94 quando si era alzato dai banchi del governo per andare a stringere la mano proprio a Napolitano che allora era il capogruppo del PDS. Purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di avere tre presidenti, tutti di sinistra, ha sempre detto Berlusconi. Scalfaro per la verità era democristiano, Ciampi un ex governatore della Banca d'Italia che da ragazzo aveva fondato a Livorno una sede del partito d'azione ma si era dimesso dopo sei mesi perché non voleva fare politica, Napolitano un post comunista della corrente migliorista. Scalfaro se lo trovò, Ciampi lo ha votato insieme alla sinistra, Napolitano è stato rieletto lo scorso aprile con i voti decisivi del PDL dopo i naufraggi di Marini e Prodi. Il primo è stato il più in viso a Berlusconi che ha ignorato persino il suo funerale. Lo accusò di tradimento, golpe, attentato alla Costituzione eversione di aver instaurato un regime misto di monarchia e aristocrazia. Il vulnus, la ferita, era nell'incarico a Lamberto Dini dopo il ribaltone di Bossi e la caduta del suo primo governo. Berlusconi voleva rivotare secondo il suo principio di Costituzione materiale per cui il premier deve essere sempre eletto dal popolo. Scalfaro sosteneva di avere il dovere di verificare se in Parlamento ci fosse una nuova maggioranza prima di sciogliere le camere. Ma al di là di tutto, fra l'imprenditore milanese, un ganassa, come dice sempre Ferrara, e l'anziano magistrato piemontese cresciuto nella democrazia cristiana e nelle istituzioni, c'era una certa antipatia umana. Scalfaro aveva bloccato la nomina di Previti al ministro della giustizia nel 1994 spostandolo alla difesa. Berlusconi l'aveva mandato pubblicamente a quel paese al Senato in una querella sulla guerra in Iraq. Poi c'erano stati gli scontri durante l'ultimo governo Prodi, quello caduto sotto i colpi dell'operazione Libertà, come la chiamata De Gregorio. Prodi si reggeva con l'aiuto dei senatori a vita, fra cui Scalfaro, una cosa profondamente immorale, secondo Berlusconi, perché sono nominati e non eletti dal popolo. Con Ciampi l'idillo, dopo l'elezione fu breve, si scontrò soprattutto tre volte. Nel 2003, quando il capo dello Stato rinviò alle Camere per manifesta in costituzionalità la legge Gasparri e due anni più tardi, quando Ciampi fece lo stesso con la riforma a Castelli sull'ordinamento giudiziario. Sempre nel 2005, Berlusconi e il presidente avevano discusso sulla nomina dei membri della Corte Costituzionale, su cui il Premier avanzava pretese di compartecipazione. L'anno dopo ci fu l'elezione di Napolitano. A una militanza di mezzo secolo con gli ex comunisti, c'è stata un'occupazione militare della sinistra, commentò Berlusconi, rimasto gelido e immobile durante il suo primo discorso di insediamento. Sette anni dopo e la rielezione aveva cambiato idea. Napolitano ha fatto il discorso più ineccepibile e straordinario che abbia sentito in vent'anni, ha detto lo scorso aprile. Il mese prima il segretario del PDL Alfano, all'indomani dell'assalto al Tribunale, ricevuto al Quirinale, aveva spiegato «Il presidente Napolitano è il nostro unico garante». Poi è venuta la condanna Mediaset, Berlusconi si aspettava molto di più dal messaggio fatto da Napolitano a Ferragosto sull'agibilità politica. A settembre il risarcimento a De Benedetti sul lodo è stato un altro colpo. Così si arriva alla telefonata di ieri. Non riesce ad avere nessuna informazione su quel che è successo alla sezione civile, stazione per il lodo di Meretti.